Ciao ragazzi, siamo qua per il test della e-bike BH X-Step Links 5.5 S Pro. Il brand dei Paesi Baschi propone questa trail bike pedalata assistita, motorizzata Shimano, caratterizzata dall'esclusivo design del telaio con la batteria da ben 700 Wh integrata all'interno del down tube con accesso dall'alto, piantone sella asimmetrico per il passaggio dell'amortizzatore, sospensione posteriore split pivot da 140 mm, ruote 27.5+, geometria equilibrata per una bici che promette tanto divertimento in sella senza limiti sia per quanto riguarda le distanze sia per quanto riguarda i dislivelli. Vediamo ora come va questa BH X-Step Links 5.5 S Pro. Come va in salita? Buona la posizione in sella con un biker alto intorno a 1,80 m che si trova subito e proprio agio su una taglia large come quella che abbiamo in prova. La sensazione iniziale è di essere in posizione perfettamente centrale, agevolata anche da una piega low rise larga 780 mm accoppiata a una stem lungo 55 mm. Complici un orizzontale lungo e di conseguenza con un reach generoso, la posizione è d'attacco anche in salita. La trazione è sempre elevata, merito anche di un carro posteriore che non disperde la potenza impressa dal biker e viene moltiplicata dal motore, con una grandissima sensibilità nei confronti delle piccole asperità del terreno che porta con sé vantaggi e svantaggi. Da una parte, soprattutto su carro a recce di terra compatta, si viaggia veloci su un cuscino. Dall'altra, c'è la tendenza a mangiarsi la corsa quando compagnono buche, sassi e piccole radici. Meglio tenere l'ammortizzatore Foxfrot DPS Performance in posizione intermedia, conservando l'ottimo comfort, merito anche degli pneumatici plus, ma godendo di un sostegno supplementare per non perdere slancio. Solo su fondi molli l'ampia impronta a terra diventa uno svantaggio, desiderando una sezione leggermente inferiore per gli pneumatici, intorno a 2,6 pollici. Su pendenze elevate e terreni tecnici, la spinta naturale del motore aiuta a procedere senza colpo ferire, godendo anche della posizione in sella ben centrale che agevola lo spostamento in punta sella per caricare opportunamente l'anteriore e quindi non perdere direzionalità. Anche la scelta dei rapporti ci è apparsa adeguata, con una corona singola anteriore da 34 denti accoppiata a una cassetta posteriore 11-46 a 11 velocità. Ecco come va in discesa. Una volta abbassata la sella, si trova nuovamente con ferma nella posizione di guida votata a un approccio diretto ed attacco, nonostante ci troviamo su una full suspenda da 140 mini per di travel al posteriore. Il tuning dell'ammortizzatore è ben riuscito, funziona a braccetto con la sospensione posteriore split pivot, regalando un affondamento sostenuto nella fase centrale, anche se appare troppo sensibile a inizio corsa. Su discesa non eccessivamente sconnesse, è meglio tenere lo stesso approccio delle salite serrate, con l'ammo in posizione intermedia, confidando sulla capacità di sforzamento dei piccoli urti svolte dalla gommatura plus. I pneumatici Schwalbe e Magic Mary sono la garanzia sui fondi difficili, andando in crisi su quelli più duri e polverosi, tipici dei mesi più caldi e non di questo umido e fangoso autunno. La geometria equilibrata e la struttura solida del telaio e forcella Fox 36 permettono di usare anche su percorsi scassati, merito di un'elevata resistenza al fine corsa. Chi vuole usare di più può considerare l'impiego di token all'interno della forcella o di sistemi più veluti come ABS Fork Tune per incrementare la progressività, una parola su un impianto frenante SLX due pistoni con ruotori da 200 mm all'anteriore e all'posteriore. Sebbene la potenza non sia da primato, la resistenza alla fatica è elevata, con una frenata consistente anche su discese lunghe guidate. A retrotreno si apprezza il lavoro svolto dalla sospensione Speed Pivot, che svincola l'affondamento dall'azione freddante, a tutto vantaggio della sua efficacia di una trazione da prima della classe. Peccato solo per il rergisella telescopico KS-10 da soli 125 mm di abbassamento su una taglia large. Passiamo ora alla guidabilità. La guida è svelta e agile, sempre considerando che ci troviamo su una E-Mountain Buggy dal peso di poco superiore ai 24 kg, pedali compresi. Una volta trovata la giusta taratura delle sospensioni, la personalizzazione degli appoggi e la pressione delle pneumatici plus già montati tubeless, ci si diverte e non poco. Il pane quotidiano di questa BH X-Step LX 5.5 Pro S sono i centeriflow a pendenza moderata dal fondo tendenzialmente compatto, dove è facile tenere alto il ritmo, confidando anche in un'ottima precisione dell'avantreno. Ribadiamo la necessità di mettere la leva dell'ammortizzatore in posizione centrale, per evitare un eccessivo affondamento del posteriore e quindi una perdita di ritmo, così come l'idea che con pneumatici da 2,6 pollici, magari con uno meno tassellato al posteriore, le performance e il divertimento sarebbero stati ancora più elevati. Parliamo ora di supporto motore. Shimano Step 68000 con potenza di 250W, coppia massima di 70 Nm, già lo conosciamo, soprattutto per le sue doti di supporto fluido e naturale alla pedalata, gestibile e trabile dei tre livelli di assistenza che sono personalizzabili tramite l'app e tube per smartphone. Nel caso di questa B-AXA X-Step si supera il difetto principale. L'autonomia non ha l'altezza delle concorrenti, infatti con una batteria da 720Wh si ha una riserva di carica realmente incredibile, complici anche la costruzione con celle di ultimissima generazione, ancora più efficienti. Abbiamo usato tuning AIG per i supporti Echo e Trail, mantenendo il boost su medio, divertendoci come non mai nell'aggradire salite irte e sconnesse, senza preoccuparci del cronometraggio residuo. Con un approccio più tranquillo si superano tranquillamente i 2000 metri di slivello, con distanze che arrivano anche a superare tranquillamente gli 80 km. PH X-Step Lynx 5.5 Pro S è una e-mountain bike al design originale e al veneristico, basata su una geometria polivalente e dotata di una batteria eccezionalmente capace, per non porsi limiti in ogni tipo di itinerario pedalato. Questa e-mountain bike dalla linea unica veneristica piace o non piace. Il design X-System è destinato a dividere, ma le ricadute positive sul campo sono molteplici, a partire dall'avantreno super solido per una guida di precisione, per finire con una batteria da ben 720 Wh che è perfettamente integrata nel massiccio downcube. Pur avendo solo 140 mm al posteriore, la X-Step Lynx 5.5 permette di usare nella guida, confidando sulle performance di una capace a forcella Fox 36 da 150 mm in veri all'avantreno. Nel complesso siamo molto vicini al concetto di e-mountain bike totale, per pedalate dalle lunghezze e dai dislivelli realmente importanti, su sentieri sterrati di ogni tipo. Quali sono i suoi pregi? Una struttura solida e rigida, dettagli molto curati e un'eccellente capacità della batteria per l'appunto. Cosa si può migliorare? Le gomme sono esagerate per la categoria della bici. L'ammortizzatore è troppo sensibile a inizio corsa, mentre si tratta di un dettaglio ma il sensore della velocità è esposto a urti e detriti. Quello che avremmo potuto trovare è una migliore organizzazione dei comandi sul manubrio, anche passando da un comando Steps E8000 all'E7000, pur di gamma inferiore, ha un incontro minore e quindi non interferisce come nel nostro caso con la lega del regisella telescopico e il comando freno. Dall'altro lato invece non abbiamo problemi, però veramente sono piccole differenze. Ci sono piccoli dettagli che però fanno una grande differenza nell'ergonomia e quindi nell'utilizzo intuitivo della bici sul trail.